La CGA di Mestre ha diffuso il consueto report settimanale, questa volta incentrato sui consumi. Il Veneto, nonostante una congiuntura internazionale difficile che ha rallentato la crescita negli ultimi sei mesi, si è lasciato alle spalle gli effetti negativi provocati dalla crisi pandemica, dal caro energia e dalla crescita esponenziale registrata dai tassi di interesse in quest'ultimo anno e mezzo. In altre parole, tra il 2019 e il 2023 la nostra regione ha segnato una variazione del PIL del più 3,3%, contro una media italiana del più 3%, meglio di noi solo la Lombardia con il 5,3% in più, l'Emilia Romagna con il 4,9%, la Puglia con il 3,9%, il Friuli Venezia Zoglia con il 3,5% e il Trentino Alto Adige con il 3,4% in più. Il turismo, la manifattura, i consumi delle famiglie, gli investimenti e l'export hanno sostenuto questa ripresa che è stata importante. Gli effetti del Covid, della crisi energetica e del boom dell'inflazione sono ormai alle nostre spalle. Certo, i problemi che affliggono la nostra economia sono sempre lì di fronte a noi e nonostante una congiuntura internazionale difficile, nel 2023 a guidare la crescita del nostro paese è ancora una volta il Veneto, affiancato dalla Lombardia. A dimostrazione che il nostro sistema produttivo sa adattarsi ai cambiamenti meglio di chiunque altro. Certo, i problemi non mancano, continua Zabeo, e le difficoltà che da decenni assillano anche la nostra regione sono sempre all'ordine del giorno. Tasse, burocrazia, deficit infrastrutturale, mancanza di personale, credito erogato con il contagocce e inefficienza della pubblica amministrazione sono i principali punti di debolezza che frenano da tempo la crescita della nostra economia. A peggiorare il quadro generale c'è stata anche la recessione che ha colpito la Germania, da sempre mercato di riferimento per tantissimi settori produttivi del Veneto, come automotive, legno arredo, orafo, calzature e meccanica. Per il coordinatore della CGA, anche onché sia estremamente difficile fare delle previsioni economiche, viste le instabilità geopolitiche che caratterizzano il nord-est dell'Europa e il Medio Oriente, nel 2024 l'economia del Veneto dovrebbe rallentare ulteriormente. Le ultime stime dicono che nella nostra regione il PIL dovrebbe crescere dello 0,6%, 0,3 punti in meno di quest'anno, contro una media nazionale dello 0,4%.